Il mio contributo qui, chiaramente a nome della Caritas Diocesana di Palermo, è stato quello di sottolineare il cosiddetto barbonismo domestico, cioè noi quando pensiamo, ascoltiamo parola senza dimora, barboni, clochard, pensiamo alle donne e agli uomini che vivono per strada o in case occupate abusivamente. Invece esiste purtroppo da un po' di anni, anche a causa della pandemia, questo barbonismo domestico, cioè queste tante donne e uomini che vivono la solitudine e quindi che anche telefonano appunto al telefono amico per avere un po' di compagnia, dalle persone più anziane che chiaramente si sentono escluse perché non hanno più quella forza fisica e anche psichica ad affrontare appunto l'ordinarietà, ma anche tantissimi giovani, tantissimi giovani che si chiudono nelle loro camere e stanno giornate intere barricati davanti un telefonino o davanti un personal computer. Oppure anche tante donne e tanti uomini separati o divorziati che appunto vanno al lavoro, però poi si chiudono in casa perché hanno paura di ripartire e non hanno più la speranza di andare avanti. Quindi abbiamo trattato come Caritas Diocesana di Palermo tutti questi argomenti proprio perché sia nei nostri centri di ascolto oppure chiamo al telefono amico in un modo o in un altro con identità differenti e carismi diversi affrontiamo queste povertà. In compagnia di Maria Luisa Negri, responsabile email amica del telefono amico e si occupa proprio del coordinamento nazionale. A livello nazionale ci rendiamo conto che arrivano delle mail di richiesta di aiuto sul numero, diciamo sull'indirizzo di posta elettronica della segreteria nazionale. Chi è l'utente che scrive un'email a telefono amico? Invece ecco lo manda all'email. Manda un'email sì. E chi è l'utente? Lo possiamo? Ha il target? Diciamo all'inizio inizio erano persone che scrivevano soprattutto con intenti suicidari, soprattutto. E questo ci ha colpito molto. Quindi ci siamo chiesti se era il caso di istituire un servizio adatto alla risposta a queste mail. Ovviamente da una segreteria non si può rispondere con una relazione d'aiuto. E quindi abbiamo fatto un primo corso appunto a fine degli anni 2000. Successivamente c'è stato un periodo di stasi e poi finalmente con l'aiuto anche del responsabile nazionale della Germania del servizio di mail amica, loro hanno molto molto più avanti di noi, siamo riusciti a creare una piattaforma con determinate caratteristiche per avere l'assoluto anonimato e iniziare nel 2011 un anno di prova e nel 2012 il servizio vero e proprio.